ciao a tutti da iota e bentornati sul canale quest'oggi proveremo delivery us to the moon è una preview e vedremo un po come è questo gioco buona visione io adoro i giochi spaziali c'era un tempo in cui i risultati si parevano semplici ma nel 2030 la grande crisi di energia si è iniziata con nessuna risultata che resta sul nostro mondo i poteri globali crearono l'agente del mondo per guardare le risposte per le risposte l'ansia si è trovata in Helium 3 un isotope potente scoperto in abbondanza sulla moon con il mondo con l'anima con l'anima con l'anima in 2032 l'anima colonizzata l'anima 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 ok ci siamo nuova partita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto, la radio ci dice tutto. Perfetto, la radio ci dice tutto. Perfetto. Ok, possiamo interagire con i vari oggetti. C'è una strana luce, però va bene. Ok, qui ci spiega tutta la storia. Perfetto, la radio ci dice tutto. Ok, dico il primo, è ground launch sequencer. Ok, sequenza di lancio, attivare il sequenziatore di lancio da terra. Allora c'è scritto. Mi piace questa cosa. Aziona. Rimaniamo nel silenzio con questo bel coso. Per l'umonità e il futuro. Ok. No, l'ho appena spento il coso. Fammi andare un po' in giro, vediamo un po'. Questa porta non si apre. Questo penso sia l'airlock. Ah no, questo ci permette di prendere la tuta? E ci prendiamo la tuta, signori. L'intro è stata un po' lunghetta, però ci ha fatto capire bene un po' di roba. E mi piace. A sto dispositivo. Benvenuto. Radio contact confirmed. Ok, questa è fatta. Entra nella piattaforma di lancio. Fesenkov. Ok. Penso che adesso la porta si apra. Esatto. Che figata. Allora, signori, l'ambiente è veramente, veramente bello. Ma parlo solamente perché a me piacciono i videogiochi ambientati nello spazio. E quindi... Oh, si può anche saltare. Quindi posso andare di là? No. Cioè... Eeeh, ho visto una cosa. Scansione. Database. Abbiamo simulato... Ah, hanno simulato... Ok. Una parabola. Va bene. Strumenti di comunicazione. Torcia. Che non so come si faccia. Tabash. Scusate. La torcia come si fa? Impostazioni, comandi. Tasti rapidi. No, tasti rapidi. Eeeh... Ah, ok. La R. Ok. Fatto. Perfetto. Qui dentro è bloccato. Anche se, secondo me... Facciamo un po' di esplorazione così vediamo. Allora, devo dire che i comandi rispondono abbastanza bene. Il fattore che sia in terza persona mi piace veramente tanto. Ok, la UI è sopra la schiena, come si può vedere da qua. Si accende e si spegne la luce. E penso ci sia anche la batteria. E per adesso l'ambientazione è veramente carina. Lasciamo pure i passi. Sì, qua siamo un po' in aria. Ma va bene. Facciamo finta di nulla. Siamo un po' in aria rispetto al pavimento quando spostiamo la camera. Ma, tutto sommato... Non è tanto male. Queste sembrano delle piccole roulotte di cui c'è una porta aperta che ci invita ad entrare. Home is where we are together. Ah, la casa è dove noi siamo insieme. C'è un pupazzo, Claire, Katie... Ah, ok. Quando siamo vicini agli oggetti, tipo al muro... Andiamo in prima persona. Ci sta. È morto? Ok. Quindi, in ambienti chiusi, siamo... Ok. Andiamo un attimo. Questo cosa dice? Questo è un libro? Ok. Il nostro bisogno energetico viene soddisfatto in un batter d'occhio. Immaginate un mondo privo di combustibili, fossili e inquinamento. In cui il nostro bisogno energetico viene soddisfatto in un batter d'occhio. In cui un sistema può trasmettere energia senza fili dovunque. Questo sistema è la MPT. Microwave Power Transmission. Trasmissione di energia a microonde. In questo libro l'inventore della MPT, Isaac Johansson, illustra le prospettive future di questo sistema rivoluzionario. Katie e Cristina Johansson nel 2044. È una femmina, Isaac. Ed Elizabeth sono fieri di annunciare l'arrivo della sorellina di Claire. Hmm. Ok. Vabbè. Classico bagno che si scarica. Non è un problema. Con lo shift si scatta, quindi si fa la corsa. E il russo. Monumento dello Sputnik. Ah, grande. Questo mi piace. Ah, c'è un problema di misure. Quando mi avvicino alla porta, la porta risulta veramente gigante rispetto a me. Ma va benissimo. Fino adesso, nessun problema. So che devo andare lì, ma prima volevo controllare se c'era qualcos'altro. Chiamiamolo ascensore. Si è rotto? Non funziona. C'è stato un cortocircuito. Qui è tutto rotto. Ok. Penso che lo devo rivisitare. Ok, facciamocelo a piedi. Ho capito. In questo caso era scendere, però va bene. Era meglio usare la scala invece che sali. Va benissimo così. Ma ci fa partire direttamente con il raggio? No. No. È stato 5 anni dopo aver ricevuto una trasmissione di potenza dell'unica luna. Nel primo, nessuno credeva che sia possibile trasmettere l'energia dall'unica alla Terra, ma la WSA ha provato i sceptici, proprio come voi, quando arrivi al MPT in linea. Devo dire che la camera e i movimenti sono abbastanza carini. Aspetta che prima di interagire volevo vedere il rotto, perché ci sono sempre cose rotte. Raccogli. Allora, se l'energia è finita, usi il codice 3548 per la porta. Si salta la corrente, ok. Va bene. Trovo il codice di lanciare il RADS. Trovo il centro di controllo per lanciare il RADS. 3548 per accedere alla piattaforma. Ok. Quindi, piccolo indizio, veramente facile da trovare. 35, 40... Grande che si può usare il mouse direttamente sui tasti. Bravi, bravi. Qui non si può andare, però qui... Sicuramente accende la luce. Ah no, apre le finestre. Buono, buono, buono. La torcia si sta consumando, eh. Direi di spegnerla. Non si fa guardare in faccia perché... Ok, sì. Mmm... Vediamo un po' se troviamo qualcosa di carino in mezzo qui. Questo dormiva un po' malino, eh. Ok, sicuramente questo si può leggere, infatti. Spacetech Magazine. Breakout del 1254. Cos'è successo all'MTP? La vita senza l'MTP un anno dopo il breakout. Retro. Nella copertina avremo. In questa edizione abbiamo invitato alcuni tra gli scienziati più rinomati al mondo per parlare di cosa possa aver fatto sì che l'MTP andasse offline. cosa possa essere successo ai coloni lunari e come l'umanità potrà andare avanti. Fa salire la cassa? Dossier del colono scomparso Isaac... Oh, Isaac. Johansson. Un ricercatore. Dato di nascere nel 18-11-2001. Nel 2054. Un po' di anni. 53 per l'esattezza. Università di Dunbridge. Ingegnere Meccanica e Architettura. Preoccupazione. Membro del Consiglio Lunare. Parenti. Tutta la parente di cui c'è deceduta. Scomparsa nel 54. Ultima posizione conosciuta. Ab Lunare Copernicus. Profilo psicologico. Maniaco del lavoro. Consumato dalla creazione e dalla conservazione della MPT. Tendenze ossessive che hanno causato fratture nelle relazioni personali. Nelle relazioni personali. Solitario dopo la morta della moglie Elisabeth Johansson. Oh, Johansson. Penso che sia. Giusto. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Ok, quindi... Proprio Pat... Per forza così. Ingrandisci. Durante il malfunzionamento di... Di qualcosa. Eravamo in comunicazione con la terra. Poi il breakout è diverso. Come può un'intera colonna asparine. Questa cosa cos'è? Ah, Juggens. Eccolo qua. Malfunzionamento 2048. Ah, proprio abbiamo fatto... Una medaglietta per il malfunzionamento. Qui c'è una lattina vuota. Qui c'è... Tu mi fai girare? Ok. Database. Oggetto MTP. How to get it... Morning again. Ok. Qui ci dice come fare. Perfetto. Questo cos'è? Uno dei pochi sopravvissuti è il malfunzionamento di ibernazione Juggensel. Ok. Diciamo che si interagisce tantissimo. Non dimenticare nessuno. We have lost a day. Ok. Che nessuna delle vittime di quel giorno venga dimenticata. Dicolore decido durante il malfunzionamento. Perfetto. E qui cosa abbiamo? Sofiaco 10mg antidepressivi? Eh sì. Quindi antidepressivi. Bene. Siamo... Siamo spuntati di là. Va bene. Va benissimo. Va benissimo. Ci piacciono queste cose. L'importante è che... Non sia monotono il gioco. Che di qua non si passa. Questa... Qua c'è un reattore al contrario. C'è una... Questa? Ce la fa prendere. Ma qui vedo... Qualcosa. Quindi... Ci fa spostare la scala. Appunto... Per salire possiamo usarla da qualche parte. La scala non sembra. Ma questo sembra un pannello da vedere. No. Ok. Entriamo. Attiviamo la torcia perché non si vede nulla. Qui c'è una scala. Sembra abbastanza... Quasi... Quasi horror. Questo... Questo è il gioco. Qui ci sono dei liberi. Una cassetta. Ho trovato qualcosa. Un martello. Si può prendere? No. Un martello. Non si può prendere. Penso che qui... Questa sia una stanza proprio di passaggio. Centro di controllo. Bello. Mi piace proprio... Traduce tutto quando mette la traduzione. Un attimo di lag. Spegniamo tutto. E qui cosa c'è? La sala mensa? Libri. Quaderni. Questo è un metodo per darti... Un minimo di informazione nel gioco. Cose strane. Boccione dell'acqua. Un po' zozzi queste gente. Ma soprattutto... Perché queste bottiglie sono schiacciate tipo lattine? Fortuna 1 è partita. Grazie a tutti. E grazie a tutti per il pesce. Ma perché ci sono le sedie sopra i tavoli? Ok. Qui credo che... L'ufficio di Claire ci sia qualcosa. Cosa. Isolato. Isollato. Three plausible causes for the MPT blackout. One, the transmitter at Pearson space station. Claire. There you are. Come on. We're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come. It's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You are just as stubborn as your father. Probably the only thing we have in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Crosses of the Blackout. Right. Second of me, it could be one of the network. Okay, this is a model. To the human and the future. That's how we fail. Password to you. Esamina. Dovrà assicurarsi che Chedi sia accompagnata al suo trasferimento sicuro sulla luna per essere riunita con suo padre. Cordiali saluti. Lesimio. Giudice. Ok, quindi custodi cautelari. È successo un disastro assurdo. Ah. Sequenziatore di lancio. Queste sono tutte le istruzioni. Il combustibile. Braccio orbitale. Quindi dovremmo fare tutte queste cose qua? Ne devo ricordare? Vabbè, ci passeremo per ricordarci i vari step. Qui non c'è niente. Sembrerebbe di no. C'è il solito martello. Per chi non l'avesse visto è lì. Centro di controllo. Una chest. No, è vuoto. E qui ci sono gli armadietti. Iniziaire il riavvio dell'alimentazione. Dell'alimentatore. Certo, riavvio. Obiettivo. Quindi praticamente dobbiamo fare tutto. Ah, ok. Praticamente facciamo. Dobbiamo fare questi step qui. Però sono curioso di sapere se c'è altro. Perché qui... Ah. Questo è questo. Ah, queste sono le sequenze di lancio? Ho... Failed. Totally failed. Ok. ok... Come va. ah siamo scesi dove eravamo prima eh sì se dove eravamo prima eh sì l'ascensore di prima ok quindi siamo ritornati qua e dobbiamo fare inizio il ripieno dell'alimentatore dal centro di controllo entrambe le varvole del combustibile a idrogeno scusa ma possiamo andare ancora più in basso? eh ok era qua chiudiamo sicuramente sarà il combustibile a idrogeno uno di qua e uno dall'altra parte scaletta rotta? vabbè ci arrivo eh ci posso salire vabbè ho capito cosa vuoi onestamente questa se la potevano risparmiare ma fa niente e continuiamo a rimanere sedi per non rompere l'atmosfera creata appunto dal gioco appunto dal gioco questa era semplice da capire non c'è bisogno neanche di spiegarla ok cambiate la musica quindi abbiamo fatto qualcosa di buono l'atmosfera eh sapere dove devo andare però sai Ci sono, ci sono, ho già capito Sta arrivando, sta arrivando Mi mette un po' di ansia questa cosa Salto, salto Che la musica ti prende? No, non voglio fallire Cosa stai aspettando? Dobbiamo lanciare prima che sia troppo tardi Sono nell'ascensore, non è colpa mia Spero che si chiude da sola quella porta Si stai aspettando? Rocket navigation systems Online, we're nearly there It's just like your training You can do this Initiate launch procedure Ground launch sequencer started Orbital access arm retracting Be a little more careful No, ho capito Nel blu No Dannazione Dai Perfetto, proprio come si è praticato Adesso Tutti i bottoni No No, ho capito No No Damn Dannazione 1, 2, 3 1 No Ah, ok A 1 A 1 A 3 Sono morto Ok C'ero quasi C'ero veramente quasi Ok Ah, vabbè ci fa riprendere di qua Era scritto qua la sequenza Non l'avevo vista Scusate E sono un ignorante 1, 2 e 3 Ground launch sequencer started Orbital access arm retracting Perfetto Just like with practice Ok A 1 A 3 B 3 E B 4 Dove fare anche questo qua Ok Riempi la cisterna delle valvole Avvia il consumo idrogeno Riempi la cisterna delle valvole Hydrogen burn off system activated Rocket booster ready for ignition Sending my for countdown Countdown Ok, ci siamo Non c'è manca qualcosa Ah, c'è altro coso Partenza dalla terra Ma siamo sulla terra Non siamo sulla luna Attenzione Siamo già Ah, stiamo andando sulla luna Via, via, via Countdown Signori Dopo il primo fail Qua c'è Bellissimo Sono uccisi tu Qua ci vediamo Oddio Vedevamo La telecamera da lì Godiamoci questa partenza Signori Ma è fallita di nuovo? Avevo fatto tutto bene stavolta Dove essere ancora più veloce Non capisco Ok, poi A1, A3, B3, B4 Ok Tiriamo anche questo Perfetto Mi sta facendo diventare pazzo Va bene 1, 2, 3 Ok 1, 2, 3 Me ne ho dimenticato Una leva 5, 4, 3, 2 Start 1 We have liftoff Grazie per la visione Signori, siamo nello spazio Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione